A breve sotto a questo video andrò di lasciare un codice skin Ma tu devi andare a lasciare un bellissimo like Ora ti do 5 secondi Quindi 5, 4, 3, 2, 1 E vai a lasciare un bellissimo like In questo momento si può ricevere anche tu un codice skin gratis Da parte mia Perfetto Quindi tra poco sotto a questo video troverete un codice skin Ma mi raccomando Arriviamo a 50 like Perché inoltre sto per regalare anche di Vubak Nei prossimi giorni Ma se volete che li regalo E mi raccomando installa questa applicazione E metti questo codice nella home page Perché appunto se lo farete tutti quanti Io andrò a regalare altri codici Altre skin e tanto altro Inoltre ho disponibili alcune ricompense gratuite Quindi mi raccomando Ve la parola a prendere il calcio nello schema Per andare a vedere un altro video Ciao ragazzi Bye